un saluto a tutti buona domenica da don andrea buffoli siamo la terza domenica del nostro tempo di avvento la domenica della gioia il colore del sacerdote in questo giorno il colore liturgico sarà il colore rosa per ricordarci che ormai la luce del natale è molto molto vicina accendiamo ora insieme la terza candela come nelle precedenti domeniche accendendo la candela chiediamo per noi per la nostra vita per i nostri cari la luce del signore in particolare affidiamo di qualche intenzione che abbiamo del cuore ma ancora di più chiediamoci in questa nuova settimana come noi possiamo essere luce per gli altri preghiamoci l'impegno concreto per essere luce nel mondo nella nostra fede nella vita di tutti i giorni preghiamo o dio padre degli umili e dei poveri che chiami tutti gli uomini a condividere la pace e la gioia del tuo regno donaci la tua luce e mostraci la tua benevolenza perché con un cuore pure generoso possiamo preparare la via a cristo che viene chiediamo proprio questo come ho pregato adesso nella colletta di questa domenica il signore ci doni la sua luce per preparare la venuta di cristo suo figlio buona domenica ancora e arrivederci a domani